Musica Cambia volto il porto di Trapani con l'inaugurazione del nuovo terminal marittimo per l'attracco delle navi veloci, una struttura moderna che occupa una superficie di 686 metri quadrati. Contiene al suo interno la zona bietteria, servizi igienici pubblici e un bar, ma anche uno spazio di attesa chiuso e climatizzato in grado di accogliere circa 70 posti a sedere, insieme ad uno spazio esterno coperto con altrettanti posti. Situata sulla banchina marinella sarà la nuova casa per circa un milione di passeggeri che ogni anno raggiunge da Trapani le isole Egadi e Pantelleria. Abbiamo realizzato questa struttura nei tempi, nel rispetto del denaro che avevamo deciso di investire per la costruzione dello stesso. Siamo felici che oggi finalmente il porto di Trapani per i propri passeggeri e per i nostri clienti, perché i passeggeri sono nostri clienti, abbia a disposizione un nuovo terminal, una struttura moderna, leggera, perché alle spalle si sviluppa la città di Trapani e quindi in un contesto di pieno rispetto dell'architettura anche della città. La proiezione centrale della crescita del PIL è pari allo 0,1% quest'anno, allo 0,8% il prossimo e all'1% nel 2021. Il quadro è caratterizzato da un rallentamento degli investimenti, in linea con quanto segnalato dalle indagini presso le imprese e con il progressivo aumento dei costi di finanziamento. Le esportazioni risentirebbero della decelerazione del commercio mondiale. Sono cento i giovani ricercatori egiziani che hanno partecipato alla Summer School Enea in energie rinnovabili al Cairo, progetto di formazione realizzato in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia, il Centro Interuniversitario di Ricerca per lo Sviluppo Sostenibile e l'Accademia Egiziana per la Ricerca Scientifica. L'iniziativa si inserisce nell'ambito del progetto MADS, l'impianto solare a concentrazione che è stato realizzato in Egitto lo scorso anno. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Premier Giuseppe Conte hanno partecipato alle celebrazioni per il centenario dell'Associazione Bancaria Italiana in occasione dell'Assemblea Annuale degli Associati alla Borsa di Milano. A fare gli onori di casa è il Presidente dell'ABI Antonio Patuelli che ha sottolineato l'importanza di una politica che tenga sotto controllo i conti pubblici. Grazie a tutti.